content creation ai o ai secondo della pronuncia parliamo di intelligenza artificiale non di un'esclamazione di dolore massimiliano squillace ben trovato massimiliano grazie si è fondatore di contents punto com contenuti parliamo di contenuti quindi molto simili a quelli che gestiamo settimanalmente qui dai canali di bfc media con una caratteristica però che sono gestiti proprio dall'intelligenza artificiale adesso capiremo come la mia domanda fra se il faceto e gli algoritmi si sostituiscono in qualche modo ai neuroni e pensano chiaramente una domanda provocatoria fortunatamente non è ancora così no e lasciami dire non lo sarà non lo sarà nel senso che noi stiamo lavorando per eliminare tutta la parte noiosa del della creazione del contenuto quindi diciamo lasciamo all'umano la parte intellettuale la parte creativa e togliamo la parte noiosa quindi la macchina non farà mai un'intervista come la stai facendo tu non farà mai un'inchiesta noi quello che su quale stiamo lavorando e togliere tutta la parte ripetitiva troppe volte sono stato in redazioni mi racconto se se si chiedeva ormai tanti anni fa 30 anni fa massimiliano che lavoro vuoi fare da grande avrei risposto il giornalista quindi sempre stato un po il mio mondo sono stato in tante redazioni dicevo e ancora troppi giornalisti vengono pagati per fare il copia in colla della notizia ansa se siamo in italia della notizia di agenzia ecco tutto questo dal mio punto di vista si può ottimizzare si può fare un lavoro più veloce più performante e poi invece la parte creativa la lasciamo agli umani al meraviglioso lavoro che tutti noi sappiamo fare ma per esempio i risultati sportivi o i recenti risultati elettorali della dell'amministrativa o del referendum tutti i meccanismi che potrebbero essere gestiti da da un soggetto che fa della ripetitività un valore quindi quali sono sono questi campi e quali altri in cui è performante dell'intelligenza artificiale dal tuo punto di vista guarda hai fatto un esempio perfetto un altro un altro esempio caratteristico sono i risultati di borsa l'analisi finanziaria quindi partendo da dei dati siamo in grado di creare un contenuto leggibile piacevole scorrevole e partendo da dei dati strutturati un altro modello dove funziona benissimo è il modo dell'e commerce che per noi è una case fondamentale nel senso che gli e commerce hanno il grosso problema parliamo di un telefonino di marca tutti vendono lo stesso telefono di marca e quindi questo telefonino probabilmente ha la stessa descrizione su decine di siti e commerce quindi l'intelligenza artificiale in grado di renderlo non solo seo quindi google è in grado indicizzarlo meglio ma anche più leggibile diverso da ogni sito altrimenti avremmo il problema gli e commerce hanno il problema che amazon diventa sempre più monipoli monopolista perché se la stessa descrizione ce l'hanno decine di siti commerce e ce l'ha anche amazon probabilmente amazon quindi giusto per continuare a darci di ci probabilmente ragione se un titolo se io monitorizzo se un algoritmo monitorizza il titolo di stellantis che sale che scende ed è legato ad altre circostanze che variano l'intelligenza artificiale senza esprimere un parere ma valutando i numeri definisce il calo o il rialzo di un titolo esattamente è in grado basandosi sempre sui dati appunto l'intelligenza artificiale non pensa però è in grado di immagazzinare tantissimi dati da tantissime fonti è in grado di raccontare delle storie con magini di errore pressoché inesistenti rispetto ad un giornalista ristratto che sta bevendo qualcosa è chiaro che ecco in giusto per questo definisce bene quando parliamo di intelligenza artificiale tante volte lo abbiamo raccontato la parola intelligente di porta fuori strada in realtà c'è un meccanismo preciso verificato e affidabile in quali altri campi segnavo traduzioni audio in testi testi in audio eccetera quali sono un po c'è un elenco di di attività che si possono gestire allora il tutto nasce sempre dal dato secondo me la parte principale è quella che non si vede che è sapere di cosa scrivere o di cosa comunicare quindi noi abbiamo un approccio che viene comunemente definito data driven quindi noi andiamo ad analizzare i dati e sappiamo che cosa le persone vogliono leggere quindi sappiamo io faccio sempre un esempio che è nella cronaca però è molto interessante probabilmente se c'è un attentato in medio oriente dove muoiono decine di persone è meno interessante per le persone rispetto a un normale tamponamento sotto casa dove c'è un ferito forse addirittura non è successo nulla i dati ci dicono questo quindi che giusto o sbagliato che sia questo è un approccio data driven su quello che si può scrivere questa cosa come appena detto si può applicare a qualsiasi cosa quindi la macchina è in grado di anticipare studiando dei trend che cosa le persone sono sono pronte di più a leggere quindi può anche decretare il successo o non successo di un articolo poi appunto andiamo alla traduzione la traduzione forse è l'esempio più più semplice perché tutti noi siamo tutti noi siamo abituati a modelli microsoft translation google translation queste sono traduzioni neurali che poi noi abbiamo un approccio ibrido alla traduzione mettiamo sempre un po' frider madrelingua quindi una persona madrelingua da ovunque nel mondo dà un'occhiata alla traduzione che ha fatto la macchina perché questo perché la macchina fa una traduzione grammaticalmente corretta ma probabilmente potrebbe sbagliare in ordine delle parole potrebbe usare delle terminologie che noi tipicamente non usiamo chiarissimo ed è ormai come dire attività quotidiana quella di incontrare anche alcune ingenuità della traduzione letteraria o delle diverse significati che si possono dare alla stessa parola ma veniamo un attimo invece alla tua azienda si chiama contents.com e quindi voi siete in questo mercato la mia curiosità è la curiosità di chi ci ascolta capire chi sono i vostri clienti senza dover necessariamente fare nome e cognome che cosa vi chiedono qual è il vostro prodotto i vostri servizi allora noi siamo esattamente in azienda è molto giovane siamo nati nel 2020 abbiamo corso velocissimamente per provare ad andare a diventare anche globali abbiamo una sede in spagna e una sede negli stati uniti e vogliamo aprire nell'anno prossimo anche in uk e francia e contents.com è evidente quello che vuole essere il nostro la nostra verticalità e i nostri clienti i nostri clienti vanno dalle grandissime aziende lavoriamo per esempio su per le agenzie di consulenza le grandi le big four di consulenza che hanno in mano tutta la digital transformation delle aziende italiane quindi pensate a qualsiasi senza città le qualsiasi grosso brand italiano che sta vivendo un momento di trasformazione passando dall'offline all'online e quindi noi li aiutiamo perché online bisogna comunicare molto le persone leggono le persone leggono di più rispetto a quello che leggono su una scatola di pasta che trovano al supermercato quindi stiamo comunicando aiutando tutte queste aziende a comunicare meglio dall'altro lato invece abbiamo le piccolissime le piccolissime aziende che tipicamente hanno bisogno di più visibilità e quindi si creano il blog e il blog diventano anche delle esperienze interessanti perché io dico sempre il contenuto non è una vanity operation non lo facciamo per essere più belli il contenuto lo facciamo alla fine per vendere di più per comunicare meglio la nostra cultura per comunicare meglio la nostra visione quindi anche i piccoli hanno capito che c'è bisogno di far parlare di se stessi una curiosità più che una domanda che riguarda la tua attività che magari tu hai una risposta migliore di quella che mi sono data io ho letto di recente di un software o probabilmente di un'attività come la tua che garantisce la scrittura di interi romanzi con intelligenza artificiale cioè io do l'indicazione Enzo Argante agente segreto sconfigge il male e loro costruiscono un percorso narrativo riesci a capire quanto credibile possa essere questa questa queste poche informazioni che ti ho dato o ci sono anche come dire soggetti che ci giocano un po' con sì stiamo molto attenti ci giocano in tantissimi io dico sempre l'intelligenza lo dico anche ai miei clienti perché poi se no si crea un'aspettativa enorme l'intelligenza artificiale o la tecnologia in generale non è magia assolutamente quindi anche noi se volete andare a provare il nostro tool su contents.com a volte l'intelligenza artificiale va per la sua strada è bizzarra dice delle cose che non c'entrano l'una e bisogna ricominciare la cosa bella è che il costo di accesso alla tecnologia è talmente basso piccolo che quindi fare una nuova prova è è facilissimo quindi per rispondere alla tua domanda romanzi lo stato dell'arte quindi non in Italia non a Milano non in Silicon Valley non da nessuna parte romanzi infatti all'intelligenza artificiale possono essere un bel esercizio di nerd per mettere insieme una serie di parole lunghissime ma probabilmente non nulla di leggibile la pensiamo alla stessa maniera va da sé grazie a Massimiliano Squillace e in bocca al lupo per la sua contents.com